Ben ritrovati dalla redazione di Flones Multimedia in studio Cesare Martignan. Sulla A12 code tra il Bivio per la A15, Santo Stefano di Magra e Bezzano Ligure. Sulla A12 prudenza la guida per vento forte tra Pisa Centro e Rosignano Barriera. In Fipilin direzione Livorno un chilometro di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Traffico ralentato per lavori tra Empoli Est e Ginestra in direzione Firenze sempre per lavori. Nel raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Donato e Tavarnelle e tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pruneta. Chiuso lo svincolo di Tavarnelle in direzione Firenze fino al termine dei lavori. Nella diramazione 11 Lucca-Viareggio si segnala la chiusura dell'uscita Lucca. Si segnala inoltre la presenza di personale su strada tra il viadotto all'Indiano a Firenze e l'ingresso in Fipilin. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!